Ciao a tutti dagli Spompati.it e questa mattina siamo nella terra di Melzo pronti per una speriamo bellissima pedalata lungo l'Adda Oggi allenamento alternativo, proveremo le mountain bike e faremo appunto come ha detto il nostro amico Lorenzo la ciclabile sull'Adda, vediamo dove arriviamo magari fino a Brivio per cui gli Spompati non solo li troverete sulla strada ma da oggi anche sulle ciclabili tieni musica questa è la prima volta che pedalo insieme al mio fantastico collega Dino grande esperienza questa è la prima volta che pedalo insieme al mio fantastico collega Dino grande esperienza ci siamo fermati un attimo per una sosta idrico sanitaria come direbbe il mio carissimo amico Lorenzo e niente adesso tutto a posto continuiamo a pedalare questi sono tutti gli Spompati di oggi alla grande ragazzi la bicicletta 90 style sta tenendo per adesso buongiorno buona gita fate i bravi ciao 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 a tutti percorso magnifico e le gambe tengono giornata fantastica ragazzi perfetto tutto a posto tutto ok si sta andando alla grande bella ci siamo ciclabile eccezionale percorso magnifico bene il viaggio di andata è terminato siamo arrivati a Brivio dopo una bella pedalata di circa 40 km siamo già pronti per tornare si una pedalata lungo il fiume adda incontrando serpenti ratti e tutte le specie anche le papere i cigni bellissimo un'ottima pedalata in ottima compagnia come sempre le papere randagio ma ma qua 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 mainstream Arrivano, arrivano, Rivolta, Red, il Mandel e il Bertoc Ecco qui Seguite tutte le nostre foto, i filmati, i spompati on the road Fulmati? Cosa sono i fulmati?